Io parto sempre dallo scenario, cercare di capire dove viviamo e quindi per me questo cerchio è il mondo. Pensiamo due minuti al mondo. Il mondo è nato sei miliardi di anni fa. Non è neanche tanto vecchio, sei miliardi, chissà quanto durerà ancora, perché tutto ha un inizio e una fine. Noi umani invece siamo molto più piccoli, siamo nati 150 milioni di anni fa, ieri. Abbiamo ancora una marea di strada da fare, abbiamo un sacco di invenzioni da fare. In questo mondo ci abitano 7 miliardi e 300 milioni di persone. Pazzesco, pazzesco, mai stata tanta gente così nel mondo. Pensate che nel 1969 eravamo 2 miliardi, 7 miliardi e 3. Siamo per il 45% gialli, siamo per il 20% bianchi. Siamo per il 20% marroni e siamo per il 15% neri. Siamo divisi in 194 stati. Parliamo 114 macro linguaggi completamente diversi tra loro. Più migliaia di linguaggi indigeni, di idiomi. 14 macro religioni, molto diverse da loro e che spesso confliggono tra loro. 42 di questi 194 stati sono in guerra. Sono in guerra. 42 stati su 194. Vuol dire che 2 miliardi di persone vivono in guerra. la popolazione del mondo nel 1969. Come se nel 1969 tutti fossero in guerra. L'80% di questi 7 miliardi e 3 di persone vivono in casa senza abitabilità. Il 55% è un alfabeto. Ma il numero che più impressiona è il solito 80-20 che funziona anche qua. Il 20% della popolazione del mondo detiene l'80% del pieno. E' la prima cosa che ci deve venire in mente, guardando questo mondo, che è già molto meglio. 160 anni fa, quando è nata la società di consumi, l'1% dei cittadini del mondo deteneva il 99,5% del pieno. E' già cambiato molto. La differenza tra loro e oggi è che oggi, quell'80% lì, vede come viviamo noi che siamo il 20%. Questa è la grande differenza. E quindi la prima cosa che ci deve venire in mente quando vediamo questi numeri qua è siccome nessuno di noi decide quando nascere, dove nascere, da chi nascere, ed è la meraviglia dell'imperfezione di noi umani, è che culo che abbiamo voluto nascere in quel 20% lì. E chi ha una fortuna così nella vita, immeritata, nel senso che non abbiamo deciso noi dove nascere, la prima cosa che deve pensare è come farselo perdonare, sto culo. Ci può fare charity, come per esempio so che voi fate con la vostra fondazione, ma il modo migliore di farlo è decidere di impegnarsi nel proprio lavoro, di darsi da fare per fare in maniera che si possano creare nuovi posti di lavoro e impegnarsi a cambiare. In mezzo a questo mondo c'è una robetta che è lo 0,50% della superficie del mondo, che si chiama Italia, è lo 0,83% dei cittadini del mondo. Guardate che figlio, ecco, in questo è meglio della lavagna normale, perché avrei dovuto cancellare, eh? Pensate a questa roba qua, 0,50% e 0,83%, ricordatevelo. In questa roba qua, questa è l'unica penisola che viaggia stretto da nord a sud, su una latitudine perfetta, chiusa, all'interno di un mare buono. Unica situazione geografica del pianeta, al mondo. E che cosa succede qua? Succede che i venti buoni dei nostri mari si incontrano, fanno meeting, coi venti buoni e l'aria fresca delle nostre colline, delle nostre montagne. E' una roba unica al mondo. The answer, my friend, is blowing in the wind. La risposta è nel vento. E grazie a questa situazione unica al mondo, nasce, che figata, adesso metto nero, perfetto. Succede una meraviglia. Ci succede che qui, in questo paesino che si chiama Pra, vicino a Genova, nasce il basilico più buono del mondo. Perché figlio... I genovesi, i Liguri, guardali là. Va bene. Dove sono i friulani? Il San Daniele, che è figlio della Bora e delle Dolomiti. Non c'è un friulano. Ardalilà è friulano. Il Parma, che è figlio delle Alpi Apuane, dei venti del Mediterraneo. E così succede che la pasta più buona del mondo si dice che si faccia a Gragnano. Dov'è Napoli? Perché a Gragnano c'è la via Roma, la cosiddetta galleria del vento, dove l'aria fresca di Castellamare di Stabia si incontra con la brezza del Vesuvio. Si crea un microclima unico. I napoletani mettevano la pasta di sicare lì, vedivano che vedeva più buona da tutte le altre parti d'Italia. E così succede che in Abruzzo c'è lo zafferano più buono del mondo, che in Calabria la liquirizia è figlia dello Ionio e delle Alpi Apuane, il Mirto in Sardegna, il Pachino in Sicilia. E potrei andare avanti in mezz'ora. I siciliani. E così succede, sono quattro numeri che vi dico, vi prego memorizzateli, fateli diventare proud, il vostro orgoglio. Succede che in questa roba, che è lo 0,50% della superficie del mondo, ci sono 7000 specie di vegetali mangiabili. Il secondo paese del mondo, il Brasile, ne ha 3.300. Qualsiasi regione italiana ha più specie vegetali di qualsiasi stato dell'Europa. Succede che in questa robetta, che è lo 0,50% del mondo, abbiamo 58.000 specie animali diverse, 42.000 di terra aria, 10.500 di acqua salata, di mare, 5.500 di acqua dolce. Il secondo paese del mondo. E' il 6% della superficie del mondo, ne ha 20.000, noi 58.000, non lo dico mai perché sennò i cinesi si arrabbiano. Ma è mostruosa. Succede che in Italia abbiamo 1200 vitigni autottoni, il secondo paese è la Francia, ne ha 222. Succede che in Italia c'è 533 cultivar di olive, il secondo paese del mondo è la Spagna, ne ha 70. In Italia abbiamo 140 cultivar di grano duro, il paese che ne produce di più al mondo sono gli Stati Uniti d'America, ne ha 6. questa meraviglia si chiama biodiversità, siamo il paese più biodiverso al mondo, è la stessa biodiversità che abbiamo nell'agroalimentare, che si è trasformata in enogastronomia, ed è il motivo per cui io mi occupo di questo. si è poi anche trasformata nella biodiversità umana, siamo il paese che ha più etnia al mondo, etnia indigene, e tutti gli antropologi sono d'accordo in questo, è una storia meravigliosa che parte 40.000 anni fa, Neandertale e Homo Sapiens, entrambi partiti dall'Africa, ma hanno fatto strade diverse, semmai si sono incontrati nel mondo, tranne che in un luogo, l'Italia, e pare pure abbiano gioito tra loro. E da lì nasce questa meraviglia, che è la biodiversità umana. Ed è per quello che decine di migliaia di anni dopo, l'Italia ha avuto il primo grande impero, leader sia nel sociale che nel politico, nel mondo. Ed è per quello che altri 1.500 anni dopo è nato il rinascimento, in Italia. Ed è per quello che noi oggi deteniamo il 70% del patrimonio artistico del mondo, 70% nello 0,50% della superficie del mondo, vi rendete conto? E la biodiversità poi si è trasformata nei paesaggi. Abbiamo i paesaggi più belli al mondo, perché chi sono i designer dei paesaggi? I contadini. E i contadini sono figli del vento. The answer, my friend, is blowing the wind. Quindi, dopo esserci fatti perdonare il culo di essere nati nel nord del mondo, in quel 20% che ha l'80% ricchezza, dobbiamo farci perdonare anche il culo di essere nati in Italia. Ricordatelo. Visite Italia.